Ho compiuto due sopralluoghi sul territorio, uno a Palmaro e uno a Bolzaneto, questo negli ultimi giorni. A Palmaro ho visto situazioni complesse che richiedono degli interventi. Il campo Branega, una struttura sportiva del territorio in stato di abbandono. Poi ho visto in via Bordighera, e questa è una questione annosa, molto meno facilmente risolvibile di quella del campo Branega, la situazione pesantissima degli abitanti delle case di questo pezzo di città che sono costretti a convivere accanto all'autostrada. E poi mi sono occupato, e ho discusso con tanti cittadini in un'assemblea molto partecipata, del problema della convivenza sempre complicata e difficile del porto di Pravo Oltri e dell'abitato urbano. Su quest'ultimo punto ho detto che saremo tutti perdenti se non trovassimo il modo di far coesistere un quartiere cittadino con un'attività economica che è fondamentale per la città come quella portuale. Due giorni dopo mi sono recato a Bolzaneto. A Bolzaneto l'incontro era con i presidenti e i rappresentanti di un tessuto associativo della Val Polcevera, Bolzanete e Ponte Decimo, società di mutuo soccorso, società cattoliche, ampi circoli diversi, le croci, le pubbliche assistenze, tessuto associativo preziosissimo che ha evidenziato come sia difficile per queste associazioni continuare a reggere in un momento di crisi. Hanno sollevato un problema di imposizione locale, problemi che l'amministrazione dovrà valutare con assoluta attenzione. Sono incontri che sono importanti perché hanno un denominatore comune che è quello del rapporto e del confronto tra chi amministra i cittadini e questo deve essere proprio un dato caratterizzante questa amministrazione e quello che io mi sforzo costantemente di fare.